Lavorare qui per me è stata una bellissima sorpresa perché mi sono ritrovata in un museo molto bello, molto importante, con delle opere eccezionali. Tante cose da fare, da mettere in fila, partendo da una situazione già molto favorevole, perché era un museo già appena ristrutturato dopo il terremoto. E come architetto ho dovuto compendiare tanti aspetti che in un museo vanno affrontati cercando di creare delle priorità. Allora le priorità che qui abbiamo dovuto subito affrontare sono state il rapporto che c'è fra l'impiantistica e tutte le reti di struttura che il visitatore normalmente non vede ma che devono lavorare in maniera sinergica con quello che è tutto il contenitore museale.